Salve a tutti, io sono Franzi25 e oggi siamo sul Slendrina The School. Beh, ormai li stiamo finendo tutti, quindi continuiamo la nostra saga di Slendrina. Vorrei anche farvi ascoltare un secondo Lost, quindi sarò zitto. Beh sì, devo dire, è abbastanza equitante. Andiamo in Easy. Sì, li stiamo finendo tutti in Easy, lo so, sono un po' invigliacco a finirli in Easy, però raga, è giusto per iniziare. E poi io li voglio finire tutti in fretta. Quindi io direi che possiamo anche concedercelo di farli in Easy. Ora, Slendrina The School l'ho già finito varie volte. Sono parecchio bravo. Quindi sì. Ora, mi pare che ci servivano i bulloni. Per... Non mi ricordo quali. Ma ci servivano dei bulloni. E noi li troviamo i bulloni? Ovvio che sì. Perché troviamo i bulloni? Perché noi siamo forti. E siamo duri. Noi siamo duri? Certo che lo siamo. Ah, se mi vedete un po' strano dalla voce, la sto perdendo perché sto registrando tutti i video di Slendrina, il 29. Quelli di Slendrina, il primo Slendrina, quello di The Forest, questo qua. Tutti oggi li sto facendo. Quindi, abbiate pietà. Usciranno un video ogni giorno. Quindi non vi lamentate, vi prego. Oh, questo qua è un bullone. Perfetto. Forse li registrerò tutti oggi. Non lo so. Non ne sono sicuro di questa cosa. Ma se mi piglia bene, se il mio lato masochista resta per ancora un po', penso anche di sì, perché no. Questa serviva la chiave? No. Oh, questo è il teddy bear. Il teddy bear è molto importante. Io me lo porto, perché è un oggetto di endgame. Quindi, sì. Ora io direi, abbiamo esplorato tutto il piano terra. Direi di andare ad aprire l'ultima porta, che era questa. Ora che abbiamo la chiave. Vediamo cosa c'è. Allora, questo qua è un medikit. Non lo uso ora. Assolutamente no. Sarebbe uno spreco usarlo ora. Dai, dammi altri bulloni, ti prego. Eccolo! Ciao! La stavo guardando a mezz'ora e non mi ha fatto nulla. Boh, strana, slendrina, oggi. Andiamo al piano di sopra, che è un po' il mio preferito di questo gioco. Ah, abbiamo la vita in questa slendrina. Quindi, più di un tot non ci possiamo far uccidere da slendrina. Non ci possiamo far colpire più di un tot. Quindi, sì. Per fortuna ci sono dei medikit. Quindi, non siamo... Io mi sono scordato di nuovo del microfono. Scusate se la qualità audio era scadente. Mi ero scordato di nuovo di mettere il microfono. Sono stupido. Lo so, scusate. Comunque, continuiamo. Non è tempo di fare i piagnucoloni. Proprio oggi, a casa di slendrina, i piagnucoloni. Non si può fare. Non si può... Ma... Ma da dove? Non si può fare! Sto controllando per bene, quindi è per questo che non parlo. Dai, ma qua, veramente non c'era nulla. Ma serio sei? Ma serio parli? What? Si era chiusa sola? Da qua, che non c'è nulla, non ci credo. Ho giocato parecchie volte a slendrina the school. Come ho ipotizzato nello scorso video, può essere che a scuola... No, forse... Era due video fa, sì, sì. Due video fa. Slendrina era bullizzata. Per quello che penso io. Secondo me era bullizzata a scuola. Perché magari era brutta. O magari i compagni la consideravano brutta. Perché da essere brutti a essere considerati brutti... Cambia tutto, ok? Tutto cambia. Sì, però... Sei davvero brutta se fai così, eh? Non lo fare più. Ora... Apriamo perché questa qua è l'unica vetrina che non si vede attraverso. Al mondo proprio, eh? Non ne troverete mai più di quelle che non si vede attraverso. Mai più. Comunque è impossibile che non conoscete Slendrina The School. È un gioco ormai famosissimo. Ha fatto il giro del mondo, praticamente. Solo Slendrina The School, il giro del mondo ormai ha fatto. E abbiamo quasi finito. Io direi di usare un medikit. Per fortuna mi ha preso adesso che avevo un medikit a portata di sedere. Quindi direi di continuare. Oh, cavolo. Madonna, io... Ora che ci penso... Sto registrando tutti i video oggi, quelli di Slendrina. Ma poi chi li edita? Vabbè. Lo dovrò puffare. Anzi, per fortuna... Faccio i video con la voce. E quindi non... Mi risparmio il fatto che ci metto tre quarti d'ora a video per scrivere. E mettere tutte le scritte e roba varia. Quindi non dovrei neanche lamentarmi più di tanto. Cos'è qua? Che serve? Allora, ci serve l'ultimo bullone. L'ultimo burlone. Chissà dov'è. Chissà dov'è. Chissà chi è. Da, mi rifiuto. Scusate l'urlo. Mi rifiuto di pensare che qua... Mio mi sia perso un bullone. Praticamente uno me ne... Uno me ne manca. E uno ho perso. Praticamente. Questa cosa è vergognosa. Disgraceful! Eh, ma allora è per forza di sotto. Per forza di cose. Ora, là non ci può essere nulla, eh. No, aspetta. Eh, eh. Qua serviva questo. Quindi può essere che qua l'ultimo. Eh, ma è per forza qua. Eh, ma io ho controllato tutto. Dov'è allora? Eccolo. Ecco, servivano qua. Slendrina The School, se sai giocare, è tipo il più veloce. Lo slendrina più veloce che esista. Perché guardate, abbiamo praticamente già vinto. Abbiamo praticamente già finito. Oh, scusate. Guardate, ora, guarda. Proprio per non sprecare nulla. Mi prendo quest'altro medikit. Come vedete, adesso abbiamo aperto. Questo era il banco di scuola di Slendrina. Come ben potete vedere. Ora, prima di finire il gioco. Vorrei centrarmi un secondino su queste foto. Qua sembra che ci sia qualcuno. Tutto scurato. Forse era Slendrina. Qui, invece, sempre un disegno di un bambino a scuola. Non so bene che cosa significano questi disegni. Qui sembra che qua ci siano dei bambini felici. Questo sembra uno spaventapasseri. Oppure sembra Slendrina. Slendrina può anche sembrare Slendrina. Magari a scuola era così. Non lo so. Queste sono tutte ipotesi mie. Oh! Asmettiamo? Ok. Allora. Questi, invece, sembrano tipo... Questi sembrano. Magari le persone che bullizzavano Slendrina. O magari questa qua sotto è lei che si è vendicata contro queste persone. Infatti sono appese. Se guardate. Questa magari era Slendrina. No, ragazzi, io sto facendo ipotesi. Ma non si capisce nulla da questi disegni. Questa magari era Slendrina che è diventata pazza. Dato che finalmente si è potuta vendicare. E questi sono scarabocchi. Non saprei come descriverlo. Magari sono i bulli. Che magari... Sono persone che ha già ucciso. Che magari l'hanno bullizzata. E questi sono scarabocchi. Magari è un disegno di lei. Tutto scarabocchiato. Io direi di finire questo gioco. Come vedete su questo balco c'è scritto Slendrina. C'è un posto per un teddy bear. Lo mettiamo. E questo qua... È un disegno. Se guardate... Ora dobbiamo andarcene. Ma se guardate... C'è una faccia. Questa qua è Slendrina. C'è una faccia senza la X. Magari tutti quelli l'avevano presa in giro. Tutti la prendevano in giro. E li ha già uccisi tutti. E quella là... È Slendrina. Aiuto! Ah! Siamo scivolati! Oh no! Oh no! Sta guardando la foto. No! Vedete questa qua? È Slendrina. Era proprio lei. Come ben potete vedere... Slendrina ci ha risparmiato la vita. Perché è come se l'abbiamo liberata. Abbiamo ormai scoperto il segreto. Quindi non ha senso che ci uccida. Questo era tutto da Slendrina. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito se vi è piaciuto mi raccomando mettete like, condividete e iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Ogni giorno alle 12.30 di mattina esce un nuovo video. Quindi mettete il promemoria oppure attivate la campanella come già detto. Noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao!